Oggente Nandi por Radio Life FM 99.9 Tambien a nos televidente Nandi Nosteve Canal 24 Tambien è televidente Nandi Via di nos Facebook Page Di Life 99 Un felice dia Buon siman, buon venuto con noi Através di Bono 29.9 Radio 100% Scucciar e gustar Mi dai metto a Iubi Un placer immenso di portarei Per presentare il programma Qui in Abo Sperando naturalmente Que potrebbe essere un 12 fin di siman Un 12 weekend Con tutto cosa che ha iniziato In maniera bocchia E va a abri un siman Di forma positivo Passata di lante Nosteve in maniera di vista Maniera nostra comissata Il giorno di nuovo Di Gialuna Vagia vierne E menu De restaurante Nang a comissar di renta Per noi Per lo che ta Antriol Catering Aweco ta Gialuna Antriol Catering Riba nel menu Piscata Nang a comissar Nang a comissar Nang a comissar Nang a comissar Lomito Con mushroom sauce Galinha La paria Galinha Stoba Baca Stoba Nang a comissar Nang a comissar Antriol Catering Dushi Tamarain Tambien Nang a comissar Nang a comissar E special Di Dushi Tamarain Awe Ta Galinha Stoba Batata Macicamo Galinha Stoba Batata Macicana Dushi Tamarain Pa Seis Dollars Cinquenta Bapu Yaman Nang a 7 17 7 2 27 7 17 7 2 27 Aya Na Dushi Tamarain Tambien Noso Dunabo I Lagami Dunabo Mesura Tambien Altagracia Grel Criollo Altagracia Grel Criollo Awe Gialuna Nantin Bonci Nantin Tambien Rips Stoba Nantin Rips Tambien Stoba Nantin Pisca Cora Nantin Tambien Carco Baca Stoba Cabrito Stoba Galinha Asa Y Nantin Tambien Sopi Diala Aya Na Altagracia Grel Criollo Situa Ska Enfrente De Oficina Di Dr. Hermelaine Ok Tumabong Nota Desai Nami Dunabo Mesura Tambien Nombar Nangasali Na Sorteio Wega Di Nombar Corso E Tambien Sorteio Wega Di Nombar Boneiro Sorteio Wega Di Nombar Corso Prome Prêmio Cinco Cheis Setenta E Cero Cinco Sete Nueve E Prome Prêmio E De Dos Prêmio Seis Mil Ocho Cheis Ocho Ocho Seis Seis Ocho Ocho Seis E Di Dos Prêmio Ante Di Tres Cero Sete Di Dos Prêmio Ante Di Tres E Ultimo Prêmio Cairiba Mil Cinco Cheis Uno Uno Cinco Zero Uno Estangga Ganapa Bien Estangga Perdeo A Porta Comprora No Por Laga Para Madun Sorteio Wega Di Nombar Corso Sorteio Wega Di Nombar Boneiro Mere Na Di Da Calga Fiesta Tava Da Awesome Bacare Da Wega Amo Tur Lo Que Es A Soro P Tava Da Ho On Heavy Tava Da Awesome Tava D Awesome Night Tur Tava Da Awesome É Cominda Coi Beben É Show É Grupo Nanga Apresentar Artista Nanga Apresentar É Anote Mes Tava D Awesome Night E Sem Lugar A Duda A Celebren Grande O Que Great E Tava 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 la celebrazione di Rocargo a te sei da metà da algo formidabile 35 anni Rocargo Logistics a te sei da Rocargo Services a te sei da metà una celebrazione turafo musica, ambiente e passabocca è incredibile Marisela con Robby Roberto con Ish tremendo un tucutore empleado non? Fabien con 35 anni di Rocargo Logistics e non andame non si fa se doucha non si fa se great ando non si invita Marisela e la prima intima e la capa di confirmar mañan eto de nos programa mañan Gesunor non stavi conversar con Marisela con Robert arriva 35 anni di Rocargo con turcosa comisa un tiki di historia con e compania Crece e caminda nanta Awe brindando a Salicaya citava con firmar 9 mantenebo informar di Turloke cuta Sosode per orañan tratamento medico rapido despues che la vira malo tocando na Hoffi Bell segun nante informar Ministro di Justicia di Corso trai back decision di jefe di cuerpo e Ministro di Justicia Quenzi Grigori a trai back un decision di jefe di cuerpo di poliz Mauricio Sambo e sindicato autoritario e sin consulta di Mauricio Sambo e su team di manejo cuta dirichendo cuerpo policial di Corso segun nante informar buscadadi ilegali nanca llegatera via la man den Corral Tabac tabada al orden del dia jazabra a controla pero noto vacunada simplemente un lancia lo mestera llega den bahia di Corral Tabac na parte 6 di Corso e abba un cantidad di persona na documenta hasta il licoptera baiuda den buscada pero no por a topa que ilegal aqui un camina mire que casi segur na tira parcial non violento sale bai laga tu rende segun informe tambe cu non sta disponer di pues ese ta informacion cu non sta disponer di y cu nan ha publicado den coranta aqui e accionan lo que negociar na mesa acaba que mandi tur accion award do posponer na cor sol tu rende bai tra back away e bai espera que tranquilidade bai bai riva e duchis la de cor a eliminata a lei de 13.5 por cento e a bai back na lei bieu es agi despues cu ministra nang mesa visa cu nopor cu e aumento pa avore aqui segun e informe ministra che esberta bis da met turende cut tra i biba na cor sau tab bing na remarca pa e bass escorting riva el bay segun e corrente da fonte abai pinta graf di wheels weekend ultimo tave fecha dinanzimento di defunto helmin wheels helmin wheels che indian an ser riva 9 de de 19 58 lo acumpli 59 venga dia dat si et tab dan a bida weekend ultimo e partner di bida di helmin wheels betty da fonte abai ferv calder die defunto segun e corrente ghi ta informa otro di notizia nan gono sting manema bis acaba sindicato nan apone action on hold sindicato nan tabai reuni gu gobiarno den 2 24 ora segun e corrente di vida nova a cumpra enia aqui na boneiro opiko no tabata sa awe enia caribe holding enia e vida nova pensión funds a anunciar firmamento de de convénio definitivo pa vida nova adquiri e activo e negoci nan de filial di enia na boneiro no a divulgar e suma di adquisición e filial que representa 3% de activo total di enia tan será empresa nan di banco di caribe enia leivan envei e enia scada envei na boneiro senyor Humberto Dabreu de Paolo presidente di unta di directiva di vida nova visa no sta contento cu e adquisición agui cuti un record di éxito considerable na boneiro no este llama gerencia e empleado nan de filial bombini cerca vida nova e adquisición agui tu un excelente oportunidad pa expande nos servicios nan financiero integran a nos miembro nan senyor Ralph Palm presidente e gerente general di Enea declara no sta contento que transaccion aqui cuta brinde empleado nan di nos filial na boneiro e oportunidad pa seguida nan funxión actual of un posición comparável des vesco finalizai transaccion aqui senyor Palm a agregar e paso kita permiti companhia nan di grupo Enea pa maximalizar e valor di nos potencial manejando e recurso nan di grupo non sta agradecido per oportunidade di por sirvi nos cliente nan na boneiro den curso di Ayanan e non sta agradecido e autoridad nan panan respaldo continuo aqui na boneiro e mes costa amben nos empleado nan cuta tra duro e dedicar e transaccion cuta pendiente ainda de aprovaxion de supervisor lo queda formalizar segun expectativa pa fin di anuari 2018 per manera non sta pisando bo ki nan vida nova a cumpra en boneiro antues agitain sera empresa nan di banco di caribe en leivon an vei e en scada an vei akina boneiro tur avore ki ta kaibau di vida nova segun e corante ki tan vei ta informa prome gos vai ke break no tim base legal pa exigir gobiarno pa retira director di ut paul de hoiz mientras ta pare si man aqui valga lo sigi pero atroben os to volve visa no tim base legal pa exigir gobiarno pa retira director di ut es pero vai mas leo que se tambe prome que break gobiarno subon of gobiarno sumalu e nota existi kus sindicato nan por vai exigir nion gobiarno disin mas retira un director ta pesei cada compania tem comisariado ad comisariado tes un responsable pa o acsi un director ta actuando corretamente of un director nota sirvi nota apto pa et traball e responsabilidad que ting carga anton nem mante prueba de moman bota toma medida nan pornificate hasta retiro di forma imediato di director pero und batene co sindicato ta comisa exigir director cabez di director di cierta companhia nan se un biar gobiarno aceptase ante gobiarno ti mas cos de vai aceptar te saque nion lugar na mundo bo no por aceptele ta pese botim manen anta visa comisariado pa sin traball ante si comisariado no ta sin traball anda botim mas hands bota baka beso tan cos sindicato nan texigu por pero tan cos tan big sindicato nan texigu simplemente no por nós do many cump break ora nos bin back mas noticia big brunch 99 jau Grazie a tutti 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 che mi hanno detto, è un po' con mazzonron, è un po' che batte di più caliente attualmente nel mondo di baseball, a salire fuori di Miami Marlins per formare parte di New York Yankees, e ora vai join il club di batteo con Aaron Judge un po' parecchio, non è così, è un po' serio che viene di Giancarlo Stanton, a passare per formare parte di New York Yankees è un po' che fanno di Boston, non è un po' che fanno, si mi puoi immaginare, che vuoi fare? bom, devo seguire qualcosa di notizia Max Verstappen, personalità di anni, è in gala di FIA, fa di 3 anni consecutivi secondo me ti informa altro giorno informa, con Nostin, Napoli ti empatai e ti fai entra come leader solitario secondo me ti informa, Manchester City ti logra victoria arriva a Manchester United di un buon partito, è il derby di Manchester Real Madrid sta a aplastare a Sevilla, Barcelona a Dalvi e a Real dos pa' nada e quindi ci sono stati un gol del maestro, Lionel Messi e non è un po' che fanno, che vende, il fútbol sta muovendo buon Barcelona sta solidando il primo giro, ribetabile di posizione della Liga è un po' che c'è un po' che fanno, a fare un po' che fanno, è un po' che fanno come team chef di Borussia Dortmund è che non stava facendo qualcosa e questo è un po' che fanno non è un po' che fanno ora, secondo il informe che noi stiamo disponibili buon buon momento per noi comprare un break è il sorteo di Champions League, secondo me è chiaro mi devo vedere con i nostri amici per noi lo facciamo attraverso di Volive FM 99.9 è mio amico papi dico me qui, extra, è che fai trempando ok papi, grazie per la buona informazione però non so nemmeno, non so nemmeno non so nemmeno, non so nemmeno, è ora con i nostri amici, 10 ore passate ok, n'haganos vai con un break ora non vieni back nos dimas vabbo, denbo brunch 99 di Awe, già l'on un break e non sta back un 10 vabbo breaking news notizia a cubo por confia tan al live 99 e radio 100% escucha e gusta 99.9 FM live FM e radio 100% ascoltar e gustar a me di 17 che è programazione CityLive tu già sabras 6 per 8 e già domingo 10 per 22 join us del ambiente qui fa di son completo una invitazione speciale a Bollife99 cominciando a farle mitare 8 te conuevor paranda di fin di ania aqui na Bollife99 Papa Bombergier taking course Grazie a tutti 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 Grazie a tutti